adesso vado un po' intorno portalo in superficie portalo in superficie portalo in superficie lascialo andare prenderlo eccoci qua lo taglio tot zam não maker é importante centrar minutes Ciao 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 Grazie di essere qui come oggi oggi voglio fare un video per di rimozione di energia negativa rimozione di energia negativa so che questo video era tanto atteso e per molte persone è un video molto 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 effettivo e per molte persone è molto necessario quindi sono qui apposta ma prima voglio ringraziare lo sponsor di oggi vi ricordo che gli sponsor sono veramente importanti per questo canale e mi permettono anche di fare degli upgrade molto molto importanti che vanno a vostro diretto vantaggio lo sponsor di oggi è Oceans Apart che è un brand che mi piace tantissimo mi piacciono tantissimo i prodotti mi piacciono tantissimo i valori e oggi in particolare indosso questo questo che sto indossando appunto è il Carson Set formato dal Carson Bra e Carson Paint e modella tutto il corpo molto bene ma lo regge anche come vedete anche dalla cucitura ad esempio dietro tira sul corpo e lo accompagna nei movimenti nelle forme il codice sconto di oggi è molto molto buono perchè con il codice sconto smr 40 hai il 40% di sconto su tutto senza minimo di spesa quindi se pensavi di prendere qualcosina provare qualcosina un pezzo in particolare ti ispirava questa è la promo giusta grazie ancora ausenza parte per aver sponsorizzato questa piccola parte del video e torniamo a noi allora oggi comincerò con la purificazione dell'aria e la rimozione delle energie negative attraverso un cristallo di salinite e poi piano piano e andiamo avanti ti dirò gli altri step intanto questa appunto è la salinite non so se l'hai mai vista è un cristallo molto 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 apprezzato poichè appunto aiuta ad allontanare l'energia negativa e una volta lo si usa si usa anche proprio indossarlo magari come collana ed ha e dona alla persona un'aria raggiante un'energia positiva attorno a sé è molto bella come cosa ma oggi io la userò vicino a te andrò a passarla vicino al tuo viso dietro lungo tutta lungo tutta la testa e anche sul tuo petto sul tuo cuore dove si concentra di solito tutta l'energia negativa quindi farò un lavoro del genere andrò molto 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 vicino al tuo viso senza toccarlo in questo modo e poi farò anche appunto dei geni cominciamo tu rilassati e l'unica cosa che ti chiedo di fare è concentrarti su questo cristallo e su dove sta passando fai solo questo fai modo di essere qui in questo momento e di avere questo unico pensiero nella testa mentre posto sulla tua fronte sul tuo naso boccamento e vado anche dei lati spero tu riesco a sentire il suo effetto su di te e adesso vado un po' intorno 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 la testa molto 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 vicino ma senza toccare toccare senza mai toccare e adesso e adesso vado anche sul tuo petto il tuo cuore benissimo ok molto molto lentamente molto lentamente non bisogna avere fretta in queste cose molto 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 bene e questo cristallo lo teniamo qui ok lo appoggio qui proprio dietro ha un altro elemento fondamentale di oggi che è la lampada di sale la lampada di sale apporta tantissimi benefici molto usato sia come un tetto di arredamento ma anche negli uffici in camera da letto perché fare le sue proprietà aiuta la concentrazione aiuta ad alzare il tono dell'umore aiuta ad intensificare il legame corpomente tutte cose fondamentali per oggi e inoltre non non vi scordiamo che era la lampada di sale anche una sua funzione rilassante e importante grazie al suo colore infatti agisce tramite anche la cromoterapia l'arancione è un colore che porta al rilassamento al buonumore al cuore del sole infatti come noterai ho cercato di rendere l'ambiente attorno a noi appunto sui toni dell'arancione non le ho lasciato al caso e infine ho portato anche queste meravigliose piante con noi perché trovo che la natura sia fondamentale per riconnettersi di ricentrarsi e per stare meglio per avere pensieri positivi per pensare alle cose semplici per ritornare nel proprio stato di equilibrio quindi adesso andrò a rimuovere energia negativa una mia tecnica personale molto rinomata molto apprezzata praticamente tutto ciò che devi fare te è concentrarti su questo pensiero che vuoi cacciare via vuoi che io prenda e sputti via quindi cosa devi fare devi concentrarti su questo pensiero e concentrarti talmente tanto che deve prendere deve prendere deve saltare la fila deve essere qui deve arrivare qui davanti alla testa deve essere pronto qui davanti per essere prelevato ok? quindi portalo qui 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 deve essere qui deve essere qui deve essere qui molto bene e lascialo andare in modo che io possa prenderlo eccoci qua lo taglio scredolo e via lo mando via 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 e facciamo così per un po' di volte tre o quattro volte e ancora portalo in superficie portalo in superficie portalo in superficie e lascialo andare lascialo a me che sono pronta prenderlo tagliamo scredoliamo 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 e soffriamo non c'è più non c'è più non c'è più ok ancora d'accordo concentrati mi tiro sulle maniche anche per questo ok portalo portalo qui qui molto bene molto bene e là c'è che io lo prendo 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 ciò ciò distruggo 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 e ciò che rimane lo soffri e via via ok l'ultima volta porta verso la superficie e lascialo e lascialo 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 andare eccoci qua ecco qua benissimo benissimo adesso scredoliamo 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 via soffia 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 via soffia via soffia via soffia via adesso eseguirò una specie di retomagico nella parola assolutamente giusta nella definizione giusta però farò questo movimento dicendo delle parole come se fosse una filastrocca perchè secondo me è molto ipnotico e aiuta tanto ok seguimi bad dreams bad dreams go away good dreams bad dreams bad dreams go away good dreams good dreams bad dreams bad dreams go away good dreams bad 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 dreams è molto ipnotica come cosa non trovi e mi rilassa sempre tantissimo la seconda parte di questo ovvio pensiero e rilassamento guidato di questa sessione è quella dell'autostima, del lavoro su se stessi quindi adesso intanto diamo un ritmo alla nostra respirazione poi introdurrò poche poche frasi semplicissime che continuerai a ripetere nella tua testa o dalla voce mentre io suonero la campana tibetano alla fine ok? ma prima lavoriamo sul respiro ora faremo tutto verso il naso quindi inspira ed espira attraverso il naso usa la pancia, senti che si sconfia si sconfia, si sconfia e ispirando si sconfia, ok? se vuoi metti anche due mani sulla tua pancia per sentire ok, questo gonfia, sconfia, sconfia ok, per quanto è entrato viene tutto con il naso quindi inspiro ed espiro espiro tutta l'aria che ho sforzati di espirare il più possibile questa tecnica aiuta tantissimo anche per alleviare l'ansia e le preoccupazioni quindi quella è proprio momentanea l'ansia da qualsiasi tipo di prestazione questo aiuta tantissimo perché fisicamente ci lascia andare ok? quindi inspira profondamente espira 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 ancora finché ne hai finché ne hai finché ne hai molto bene stai andando benissimo stai facendo un magnifico lavoro e ancora? ok l'ultima volta vai da pieni polmoni e butta tutto fuori tutto fuori tutto 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 fuori magnifico magnifico tenendo questo ritmo tenendo l'inspiro espiro magari anche le mani sulla pancia adesso andiamo a ripetere pochissime frasi semplicissime che ho pensato per te in base alle tue esigenze ok? io lo dirò al femminile ma tu puoi dirlo come ti senti ok? quindi la prima fase sempre respirando è ho il coraggio di essere diversa ripeti ho il coraggio di essere diversa 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 anche negli occhi concentrati sulla respirazione e continuo a pensarlo ho il coraggio di essere diversa 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 la seconda affermazione positiva è gli ostacoli sono solo sfide da superare gli ostacoli sono solo sfide da superare gli ostacoli sono solo sfide da superare ripeti 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 con me gli ostacoli sono solo sfide da superare quarta e penultima io sono importante fondamentale io sono importante ripeti lo sai difficile io sono importante io sono importante io sono importante ripeti la quarta la quarta la quarta la quarta io credo in me 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 potresti sentire il tuo cuore che accelera perché magari una frase ti ha particolarmente colpito fai fatica ad accettarla fai fatica a metabolizzarla ma sono tutte frasi importantissime, potentissime ok io credo in me io credo in me io credo in me io credo in me probabilmente forse questa è la frase che più mi fa battere il tuo cuore io credo in me io credo in me un po' cosa ho il coraggio di essere diversa io ho il coraggio di essere diversa gli ostacoli sono solo sfide da superare io sono importante io credo in me la cosa importante quando tu sceglierai nei due momenti che ti prende per te le frasi da ripetere, l'importante è che abbiano un significato per te non scegliere delle frasi che sembrano incredibili ma che non ti fanno battere il cuore scegli ciò che ti mette in difficoltà, ciò che ti fa battere il cuore ciò che ti fa emozionare scegli quello io ho scelto queste frasi per te perché penso siano le più adatte ma sicuramente ne troverei anche altre che potrei ripetere ogni giorno adesso andrò a suonare come ultimo step la campana tibetana tu ripeti queste frasi io ho nella tua mente l'importante è che tu le metabolizzi e lasci che il flusso delle tue emozioni che questi casi ti creano ti attraversi ok? ok 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 E io spero dal profondo del mio cuore che questa sessione di rimozione di energia negativa e la plus di energia positiva ti sia stata utile, tu abbia sentito veramente delle emozioni forti e spero se vuoi che riguarderai questo video se ne avrai bisogno in un certo momento della tua vita e saprai che io sono qui, ok? e io penso proprio penso proprio penso proprio se attunta l'ora ti, 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 ti appassare leggere ci, 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 ci augurare 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 ci, 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 ci Good night, sweet Buon smell Just Dulce swings Dulce swings Dulce swings Buon nuit Buon nuit Fete scegliere Good night Good night Good night Good night Good night Buon nuit Miei madronalpistacchi Mazzone E un abbraccio Buon nuit Reg smi C'est bon Grazie.